Quindi non ci aspetta sicuramente una partita semplice, però quello che è il nostro lavoro di questa settimana è stato e sarà anche nelle prossime due sedute di allenamento è quello di concentrarci molto su noi stessi, nel senso che non voglio far passare il messaggio che cosa faranno gli altri farà la differenza. Il messaggio che deve passare forte alla squadra è quello che noi dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio e poi faremo i conti con quello che prepareremo dal punto di vista tattico, però molto del nostro futuro passa da noi. Le vicende, le vicissitudini societarie altrui chiaramente ci riguardano fino a un certo punto, nel senso che in questa stagione qualsiasi gruppo, il nostro compreso, nel momento della maggiore difficoltà si è trovato forse nel momento di maggiore coesione e quindi ad essere più attaccato e più unito che in altri momenti della stagione. Io penso che sabato dovremmo essere bravi noi a dare una direzione alla partita perché chiaramente loro arrivano con la vittoria di Pistoia molto più leggeri in termini di classifica e questa leggerezza può portare a due situazioni, può portare che se noi aggrediremo il match e saremo tosti magari loro non arriveranno fino in fondo con la bava alla bocca ma allo stesso modo, nel momento in cui noi non dovessimo essere aggressivi in una partita punto a punto la loro leggerezza potrebbe essere un fattore. Quindi è chiaro che l'ambiente ha tutto il diritto di chiedere una svolta, è normale, è comprensibile che quello che possono essere stati i miei messaggi nel dire che comunque la partita di domenica secondo me dei segnali che aveva mandato non sia più sufficiente, soprattutto perché chiaramente continuare a perdere diventa sempre più difficile, guardare il bicchiere sempre mezzo pieno soprattutto perché arrivati a questo punto sono le vittorie che ti portano al playoff quindi non ho nessun problema con il comunicato del nostro tif organizzato anzi domenica ho avuto modo di conoscerli e di parlarci di persona perché poi a me piace metterci la faccia quindi ho già promesso loro che saremo noi a trascinare loro e non viceversa.